Allora ragazzi, finalmente abbiamo trovato il Tempio della Ricchezza a Malta. Qui a Malta ci sono tantissimi templi e sapevo, perché ho letto dei testi in cui c'era scritto che le funzioni di tutti quanti i templi c'era un Tempio della Ricchezza che era qui. Ed è alle mie spalle. Dov'è? Si vede? Praticamente ci sarò passato 200 milioni di volte qua davanti, perché è anche abbastanza vicino a dove abito io, ma non ero mai riuscito a vederlo, questo Tempio. Guardate che meraviglia, proprio di come... Ah, qui da qua non si vede bene, aspetta, ora ti faccio vedere meglio. Anzi, ci passiamo proprio dentro. E praticamente è nascostissimo, perché è inglobato all'interno di una struttura privata. Quindi praticamente... eccolo qua alle mie spalle. Praticamente... guarda che meraviglia. Ci passiamo dentro. E praticamente... è tutto bellissimo, perché è tenuto bene con... Guardate questi ulivi quanto sono belli, questi alberoni. E praticamente noi siamo gli unici che sappiamo che questo è il Tempio della Ricchezza e che sta qua dentro e che probabilmente non ci arriverà mai nessuno. E quindi volevo condividere con voi questa soddisfazione. E poi qui c'è un'energia pazzesca, molto forte. Probabilmente ci sarà un punto energetico qui sotto molto forte. Comunque mi sono preso un ricordino, una pietrina da qui che conserverò gelosamente. E quindi quando vorrete sintonizzarvi con questa frequenza o venite qui e vi accompagno oppure a uno dei nostri... Sicuramente lo faremo vedere ai studenti della scuola di coaching energetico e poi vedremo a chi altro. Comunque qui c'è da fare qualche bel lavoretto energetico. Fantastico, eh? Guardate che belli prodotti questi alberi dietro. Yuhuu! Un bacio a tutti!